L'editoria italiana attraversa un periodo non facile. Molte testate sono costrette a ridurre gli organici, altre a chiudere. Nemmeno i grandi gruppi sono al riparo dai rischi legati alla crisi economica. In un clima come questo, lanciare un nuovo prodotto sembra un azzardo non da poco. L'esperienza della free press torinese e giovani genitori, però, va controcorrente. È la prova che se l'idea è buona, il pubblico risponde in maniera positiva. Quali sono i ristoranti e le vacanze a prova di bambino? Quali i negozi più convenienti? La rivista prova a rispondere a queste e molte altre domande. Siamo partiti come uno studio associato, oggi siamo un SRL, siamo partiti in quattro, oggi siamo in tredici. Rispondiamo non soltanto alle nostre domande, ma anche a quelle di altri genitori. E così è stato e direi che a otto anni di distanza il risultato c'è. Lo che ci è piaciuto è stato l'aver fatto crescere la cultura del baby friendly a Torino, dell'accoglienza ai bambini. Ora, giovani genitori e anche un sito internet che si rivolge a un pubblico nazionale. Ma il giornale, nato come esperienza locale, non si è posto limiti. Sembra che anche la città di Milano abbia bisogno, senza l'esigenza di raccontare. A fine maggio, inizio estate, usciamo con il nostro primo numero milanese. Ma quali sono gli ingredienti del successo? Essere una struttura snella, essere una struttura capace di rispondere velocemente alle esigenze del mercato. La cosa che più di tutti aiuta è il fatto che siamo molto donne qua dentro. Da noi c'è la giornalista che sa usare il trapano per attaccare uno scaffale a una parete. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow.